Darius, non vi muovete! Cosa? È tutto un casino! Trattenga i suoi uomini! Fermi dove siete! Che succede? Si spieghi? Sentivano quello che dicevamo nell'unità mobile! Cosa? Sospendete! Sospendete! Il cassetto con le richieste! Hanno sentito ogni parola! Ci hanno messo un trasmettitore! Ci ascoltavano! No, no, no! Io entro! Cazzo! Chiamo anche gli altri! Steve! Steve! Stanno arrivando! Tutti tranquilli? Sì! Sì! Forza! Tutti fuori! Via! Mettete tutti la maschera! Fuori! Fuori! C'è il detto! Di cazzo! Avanti! Via! 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 È inutile! È presto! Lo scende, cazzo! Muovete! Tutti so per la scala! Di cazzo! Nonlo! Nonlo! Maltono! Compose! Sì! 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 No! Cessare il fuoco! Cessare il fuoco! Cessare il fuoco! Cessare! Cessare! Andiamo gente! Andiamo! Stai giù! Stai giù! Stai giù! Ha nessuna testa! Avanti! Ha nessuna testa! Stai giù! 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 Che cosa vuole fare? Mi sopra l'ho detta! Stai giù! Ehi! Stai giù! Su quella testa di cazzo! Mani su quella testa di cazzo! Non muovetevi! Avanti! Mani sulla testa! Mani entrateli, forza! Te muovi! Che insegnano la mano! Che insegna la mano! Ma che succede? Non correte rischi! Non sono stata io! Non sono una criminale! Io non c'entro niente! Non spari! Non muoverti! Non muoverti! Non mi muovo! Faccia a terra! Fermi, fermi! Faccia a terra! Non muoverti! Non mi muovo! Attento! Controlla che non avverò il mio basso! Fernandez! Eccomi! State lì! Calma! Non muovetevi! Andrà tutto bene! IASU Team! Allinearsi! Fermi, non muoversi! A sinistra! A sinistra! Pulito a destra! Pulito! A sinistra pulito! 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 Tutto pulito! Sotto la scrivania! Tutto pulito, sergente! Pulito! Controllo l'ufficio! Pulito! 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 Tutto pulito, sergente! Pulito! Tutto pulito qui! Bene! IASU sulle scale! Allinearsi! Sotto la scuola! Via ragazzi! Compatti! 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 Andiamo! Pulito! 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 A destra! Pulito! 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 Pulito, sergente! Pulito! Pulito! Serve uno scudo qui! Portatevi uno scudo! Scudo in arrivo! Pulito, sergente! Pulito! Sembra tutto pulito! Assicuratevi! Lo stiamo facendo! Continuate! Roger! Pronti? Copritemi! Pulito! È l'ultima porta! Pulito, sergente! Venite giù! Grazie a tutti.